Seconda corsa premio Pizzodeta per sole femmine di tre anni impegnate sul miglio col numero uno Finlandia FBS, Roberto Ruvole, due Fiona Petral, Massimiliano Romanelli, tre Favola degli Ulivi, Sabatino Di Vincenzo, quattro Fatima Soppe, Umberto Di Vincenzo, cinque Fresia del Ronco, Antonio Simioli, sei Flower Griff, Roberto Vecchione per Orgererert, sette Falacca Dipi, Ghetano Di Nardo per Francesco Esposito. Seconda fila, otto Fujiko Fonta, Alessandro Cocciadoro, nove Fedor SM, Mario Minopoli Junior per Domenico Minopoli. Inuncia al lancio col sette Falacca Dipi. Allo stacco cerca di emergere con il numero quattro Fatimas Hoppe, al cui interno rinviene però Finlandia FBS. Ha fatto partenza ma ora cerca posto Fresia del Ronco, mentre Finlandia FBS rientra completamente a Fatimas Hoppe che si accoda davanti a Fiona Petral, mentre Fresia del Ronco avanza all'esterno. La quinta posizione è per Fedora SM, con all'esterno Fujiko Font che precede Falacca Dipi. Hanno sbagliato Flower Griff e anche Favola degli Olivi. Freda del Ronco all'attacco di Finlandia FBS che si oppone tenacemente e i 600 iniziali vanno via addirittura in 42.8. con Finlandia FBS che dopo essere rientrata in avvio a Fatimas Hoppe ha replicato al duro attacco di Fresia del Ronco che però si è creata lo spazio per accodarsi. Metà gara seppur in decelerazione in 58.2 con Fresia del Ronco che è costretta a spostare nuovamente dalla scia di Finlandia FBS per prevenire Fujiko Font che ora sta sopravanzando completamente Fatimas Hoppe. Il chilometro della battistrata va via in 1.13 appena abbondante. Finlandia FBS nuovamente pressata da Fresia del Ronco nella scia della quale temporeggia per ora Fujiko Font seguita da Falacca Dipi. Terzetto di testa a ventaglio al paletto dei 400 finali dopo 1200 metri in 1.28.1 con Fujiko Font che ora muove con maggior decisione all'esterno di Fresia del Ronco che è stata forse respinta definitivamente da Finlandia FBS ma Fujiko Font passa all'appoggio nelle mani di Alessandro Gocciadoro su Finlandia FBS che ha speso tantissimo sbaglia Fresia del Ronco. Terza posizione ora per Falacca Dipi in seguita da Fedora SM. Fujiko Font che prosegue sicura fino al traguardo va a centrare la quarta vittoria a seguire. Ottima, ottima seconda Finlandia FBS davanti a Falacca Dipi che precede Fedora SM. 8.1.7 l'arrivo ufficioso della seconda Capannelle. Gli ultimi 400 metri comprensibilmente più lenti in 34 ma comunque 1.58.8 sul mio cronometro. 1.58.8 che significa media intorno all'1.13.7 per la quarta seguire di Fujiko Font figlia di Vividwise AS con i colori della scuderia Denise il training e la guida di Alessandro Gocciadoro che raddoppia subito dopo la vittoria colta in apertura con Girl of the Day. 8.1. Finlandia FBS che corre alla stragrande con Roberto Ruvolo. 8.1.7 l'arrivo ufficioso della seconda Capannelle. della linea che può tornare allo studio a Milena e Matteo. Grazie a tutti.